Salve amici del Centro Medio Italiano, possente campo di alta pressione e insiste sull'Italia. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per giovedì 24 marzo. Al mattino tempo stabile con cieli soleggiati su tutti i settori e attese velature solo sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno, di qualche innocuo addensamento atteso sui rilievi di Calabria e Sicilia. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni, temperature minime e massime stazionarie o il rialzo su tutti i settori. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano. Grazie a tutti!